Matematica e letteratura del Novecento, nel Novecento, intanto questo accostamento di matematica e letteratura può sembrare un accostamento un po' azzardato, un po' ardito, sono due materie che a scuola spesso non comunicano tra loro, anzi a volte si sente dire che chi è interessato alla letteratura poco ci fa con la matematica, viceversa chi è interessato a studi di carattere matematico, per studi di carattere matematico intendo non solo la matematica in sé ma la fisica, l'ingegneria eccetera, perché dovrebbe andare a perdere tempo a leggere romanzi o ad occuparsi di letteratura. In realtà fino a un certo momento, diciamo fino al Settecento, anche fino agli inizi dell'Ottocento, chi studiava, studiava sia una cultura umanistica sia una cultura scientifica, la cultura era intesa in senso ampio, come un tutto insieme, poi c'è stato via via un distacco, linguaggi che si specializzavano sempre di più, metodi di studio diversi a seconda che ci si avvicinasse un problema di carattere tecnico-scientifico o un problema di carattere umanistico, greco, latino, italiano, filosofia eccetera. In realtà questo distacco era un distacco solo apparente, anzi io in questa lezione cerco di dire una cosa esattamente al contrario, cerco di dimostrarvi che proprio durante il Novecento matematica e letteratura si sono avvicinate sempre di più, hanno sempre di più toccato argomenti e utilizzato metodi tra di loro vicini, tra di loro affini. Ecco, addirittura nel corso di questa lezione, a parte che abbiamo già messo insieme due personaggi che sono tutto il Novecento della letteratura e della matematica, che riconoscete tutti a sinistra Luigi Pirandello che è stato uno dei più rappresentativi, io azzardo a dire dal mio punto di vista almeno il più rappresentativo scrittore del Novecento, il più innovativo e Albert Einstein, sono vestiti di grigio scuro e di bianco, forte contrasto, quindi si vede che rappresentano due discipline così diverse, però comunque sono insieme. Ecco, allo stesso modo noi mettiamo insieme, uno accanto all'altro, l'evoluzione della letteratura nel Novecento, tra Ottocento e Novecento, l'evoluzione della matematica tra Ottocento e Novecento. Io ogni tanto farò cenno anche alla fisica, però ecco soprattutto parliamo di matematica, ma vedremo che potremmo trovare anche un filone molto simile per la fisica, ma potremmo trovare un filone simile per la storia dell'arte, perché ecco la tesi che porto avanti, rivelo subito il finale, così non creo suspense, ecco l'idea che porto avanti in questa lezione è che quando qualcosa è nell'aria, quando un cambiamento di paradigma, di approccio culturale, diciamo pure in senso ampio di mentalità, è nell'aria, questo si fa sentire in tutte le discipline. Allora, che un cambiamento di mentalità, di cultura, si faccia sentire nella letteratura o nella filosofia? È chiaro a tutti, no? La letteratura succhia dalla realtà, la filosofia si fa influenzare fortemente dal modo di ragionare, dalla mentalità corrente, dalla società, diciamo così. Che questo accade in matematica può sembrare stupefacente. La matematica, per molti di noi, per come si studia la matematica a scuola, ma non solo alla scuola superiore, anche all'università, sembra impermeabile alla società. La matematica è la matematica, 2 più 2 fa 4 e non c'è il 2 più 2 di destra e di sinistra, non c'è un 2 più 2 che risenta del positivismo o che risenta del relativismo o che risenta del soggettivismo. 2 più 2 è 4. Quindi dovrebbe, i teoremi della matematica si deducono in maniera rigorosa facendo ragionamenti logici e non è che la logica viene influenzata dalla società. La logica è la logica. se da A segue B, se tutti gli uomini sono mortali e Socrate è un uomo, che Socrate sia mortale lo deduciamo distinto, ci viene spontaneo. Se uno appartiene a un insieme i cui elementi hanno tutti una proprietà è chiaro che anche lui ce l'ha. Quindi anche la logica su cui i ragionamenti della matematica sono basati dovrebbe essere indipendente dalla società in cui viene sviluppata. Non c'è un... non ci dovrebbe essere, secondo questo ragionamento, una matematica del primo novecento e una matematica del secondo novecento. Sì, magari come sviluppo, come estensione, ma non come tipo di approccio. E invece vedremo che gli stessi ragionamenti che possiamo fare per la letteratura li possiamo fare per la matematica. E vi svelo subito il risultato del ragionamento e poi lo andiamo a dettagliare. Allora, in letteratura si passa dal realismo dell'ottocento, realismo legato al positivismo ottocentesco, una analisi, diciamo così, anche nella letteratura scientifica della realtà, una grossa fede nell'approccio scientifico, nella misura dei fenomeni, nella descrizione della realtà. La letteratura nel corso dell'ottocento, anche quando è una letteratura di narrazione, un romanzo, si basa sulla realtà, si basa sulla descrizione, le belle descrizioni dei romanzi dell'ottocento, in cui si descrive la realtà, si va a scandagliare, la si descrive per capirla meglio, come uno scienziato descrive un sistema per comprenderlo meglio. Quindi il realismo, ovviamente, questa è una tendenza generale, poi ci sono sempre in ogni periodo le eccezioni, ci sono i ritardatari, che ancora nell'ottocento usano un approccio settecentesco, un po' barocco, e ci sono i precursori, già nell'ottocento c'è qualche scrittore che ha un atteggiamento novecentesco, questo sempre, però parliamo di una tendenza. Nell'ottocento la letteratura è una letteratura di tipo realismo, che poi si trasforma in modernismo nei primi del novecento. Il modernismo è più soggettivo, non si guarda solo la realtà esterna, ma si guarda anche la realtà interiore. Nell'inizio del novecento vuol dire Freud, vuol dire psicanalisi, vuol dire introspezione, l'uomo si interroga su se stesso, vuol dire anche una certa dosi di relativismo, perché se la conoscenza è soggettiva, la conoscenza mia è diversa dalla conoscenza di un altro, perché è il soggetto che conta, non c'è più una realtà oggettiva, per cui la letteratura comincia a relativizzarsi, qui sicuramente a molti di voi viene in mente Pirandello, non c'è una verità, ma ci sono tante verità, a seconda del soggetto che descrive una situazione. Ognuno ha il proprio punto di vista, ognuno ha il suo background, diremmo adesso, per cui ciascuno ha una propria visione delle realtà, non c'è più una realtà oggettiva del realismo e quindi è più soggettiva. Poi dopo il modernismo arriva il postmodernismo, è un superamento del modernismo, è un superamento nel senso che la letteratura non ha più la pretesa di spiegare, non ha più la pretesa di risolvere problemi, di aiutarci a capire. La letteratura dice, non ce la faccio, mi devo rassegnare a convivere con l'incertezza. La seconda parte del Novecento è un sinonimo di incertezza. Certo, dopo due guerre, dopo tutto quello che è successo, si è meno sicuri, si ha sempre meno fiducia nella scienza. La scienza porta anche tanti guai, si dice. Non è vero questo, però è la percezione collettiva che porta a dire questo. Per cui bisogna accontentarsi di convivere con la complessità, si prende atto della complessità del mondo e la letteratura ci deve insegnare non a risolverla, ma a conviverci con la complessità. E questo è un po' il postmodernismo. Ecco, questo, se qualcuno di voi è uno studioso di letteratura, adesso si scandalizzerà che io con quattro parole ho la pretesa. Però ecco, cerchiamo di schematizzare l'andamento tra Ottocento e Novecento. Ecco, in matematica, come possiamo dire, voi qua nella seconda colonna, nella colonna di destra, trovate matematica realista, moderna e postmoderna. Non sono termini ufficiali. Quelli di sinistra sì, sono termini che trovate sui testi. Quelli di destra li ho inventati io, nel senso che li ho inventati per questa lezione. E ho diviso la matematica in realista, moderna e postmoderna. La matematica realista è quella che voi avete studiato, la geometria, geometria, la geometria che serve per fare misure, per misurare un'area, per misurare gli angoli, conoscendo i lati o viceversa. Ecco, quella che voi avete studiato a scuola. Vuol dire geometria euclidea, quella appunto che avete studiato, le proprietà dei triangoli, delle figure, vuol dire l'analisi matematica, le derivate, gli integrali, i limiti, che permettono anche di risolvere problemi di fisica. Adesso voi tutti sapete che all'esame di maturità non vi danno più un problema, un problema nel senso di dato x e y, ma vi propongono una situazione che dovete modellizzare la ruota, mi è rimasto impresso la ruota quadrata, ecco. Voi dovete prendere una ruota quadrata e descrivere come si muove, no? Non è che vi dice dati x e y rappresentare il grafico, dovete tirarla fuori voi la funzione. Ecco, la matematica che serve a descrivere la realtà, matematica e realtà, realismo. Però, i primi del Novecento c'è stata una grossa crisi della matematica, di cui adesso parleremo, la crisi dei fondamenti cosiddetta, in cui la matematica si è chiesta di cosa sto parlando, qual è l'oggetto del mio studio. La matematica comincia a parlare di tante altre cose, arrivano geometrie non euclidee, si comincia a parlare delle teorie astratte degli insiemi, delle strutture, si comincia a parlare di infinito e qui ci associeremo il nome di Cantor e anche questo siamo i primi del Novecento, tra fine Ottocento e primi Novecento. Comincia una matematica che è puramente formale, non ha a che fare con oggetti veri, con i campi da misurare, ma con oggetti astratti. Quello che conta sono gli assiomi, non conta che un assioma sia empiricamente vero, che venga da un esperimento, gli assiomi ce li possiamo anche inventare, purché poi si mantenga la coerenza, purché si abbia una completezza. Coerenza e completezza, ma quando arriva la matematica postmoderna coerenza e completezza cominciano a vacillare. Qui si scopre nel secondo Novecento, diciamo dagli anni 40 in poi, perché Gedele del 38, si scopre che non tutto si riesce a dimostrare, che ci sono delle affermazioni indecidibili. Si scopre che le traiettorie che descrivono gli andamenti nel tempo di sistemi reali possono essere caotiche, cioè imprevedibili, basta un niente per perdere la traiettoria e la previsione diventa impossibile. Qui i modelli che descrivevano perfettamente il moto dei pianeti nell'Ottocento, quando li si vanno applicare alla fisica dei fluidi non ce la fanno e infatti sapete che le previsioni del tempo non arrivano a prevedere più in là di tanto. Quindi nel secondo Novecento comincia a vacillare questa certezza della matematica e lo si dimostra però con la matematica. Da una parte può sembrare che diventi meno potente, dall'altra è più potente perché è lei stessa che dimostra i propri limiti e quando uno è consapevole dei suoi limiti vuol dire che è arrivato avanti, vuol dire che ha capito di più. Quello che dice io so fare tutto destra sempre un po' di sospetto, quello che dice mi rendo conto fino a che punto posso realizzare, quella è una persona che è arrivata più avanti con gli studi di solito. Ecco, in fisica, vi dicevo potremmo fare anche una colonna della fisica. In fisica nel Novecento c'è il principio di indeterminazione, non si può conoscere perfettamente sia posizione che velocità di una particella, dobbiamo accontentarci che appena guadagniamo da una parte perdiamo dall'altra. Non riusciamo in fisica a dire qual è il tempo assoluto per tutti perché ciascuno ha il proprio tempo e qui trovate il soggettivismo, il relativismo e infatti vi sto parlando delle relatività e quindi anche in fisica. Ma allora uno dice ma perché succede questo? E adesso questo è questo di cui parliamo. Allora questo è il quadro generale, andiamo un pochettino appena appena nei dettagli. Comincio con la matematica perché il dubbio è lì. Ora faccio così, comincio a parlare dell'evoluzione della matematica sia perché la parte è un pochino più tosta, meglio che la facciamo all'inizio, sia perché è quella che ci dà più curiosità. Nessuno di voi è stupito della colonna di sinistra, dell'evoluzione della letteratura, è chiaro, evolve in continuazione, semmai ci stupisce la colonna di destra, della matematica che sta evolvendo. Cosa vuol dire che la matematica si interroga su se stessa? Ma 2 più 2 non faceva 4, c'è un dubbio? Beh però non è solo 2 più 2. Allora andiamo a vedere la matematica per prima. Cominciamo da quello che sapete bene, dalla geometria euclidea. Tutti sapete che l'edificio della geometria euclidea nasce da pochi assiomi. Ci sono pochi assiomi considerati evidenti, evidenti in che senso? Evidenti empiricamente. Per due punti passa un solo segmento. Perfetto. Il segmento si può prolungare quanto si vuole, tutti saremo pronti a giurare su questo. dato un punto e una lunghezza si può sempre descrivere un cerchio, con centro in quel punto e con il raggio dato, basta avere un compasso, basta pensarlo. Tutti gli angoli retti sono uguali e chi lo metterebbe in dubbio? Ecco su questi quattro assiomi insieme a delle nozioni comuni che sarebbero la logica di base, la logica di base cosa vuol dire? Che due cose che sono uguali a una terza sono anche uguali tra loro? È normale, no? Se a due cose sommiamo la stessa cosa otteniamo uguali risultati. Se da due cose uguali sottraiamo cose uguali otteniamo uguali risultati. Il tutto è maggiore della parte. È normale. Vedrete che proprio questo ci creerà dei problemi. Però nella nostra esperienza che una parte sia inferiore al tutto, se io da un oggetto ne stacco un pezzo, quello è più piccolo. Quindi da queste cose qui si ricava la geometria euclidea. Però Euclide non era soddisfatto perché c'erano tante cose che lui vedeva e da questi assiomi elementari non riusciva a dimostrare. Gli ci passano un po'. Un assiomi è un qualche cosa che viene dato per certo perché è evidente senza doverlo dimostrare. Dagli assiomi poi ricaveremo delle cose meno evidenti che saranno i teoremi. Ecco, l'ultimo postulato, ecco, vedete che è già più lungo, è più articolato. Se prendo una retta che taglia altre due rette si formano degli angoli. Angoli che si trovano dalla stessa parte come questi due, se la loro somma è minore di un angolo piatto, allora le rette si incontrano da questa parte qua. Se invece la loro somma è uguale a un angolo piatto, le rette non si incontrano mai, sono chiamate parallele. Certo che rispetto agli altri questo è un po' più ostico. Tant'è vero che Euclide disse, beh, io questo devo riuscire a dimostrarlo. Poi dopo, più avanti, altri studiosi dopo Euclide hanno visto che questo quinto postulato si poteva anche rendere in maniera equivalente, l'ho chiamato 5 e 5 primo perché è sempre lui, in maniera equivalente ma più semplice, in questo modo. Dato una retta e dato un punto fuori della retta esiste una e una sola retta passante per quel punto e parallela alla retta data. Dato un punto esterno c'è una sola parallela che passa per quel punto. E questo qui già un pochettino ci sembra più digeribile. Però anche questo l'aria è più di un teorema. Se ho una retta e ho un punto esterno allora posso tracciare una sola, l'unicità è la cosa importante. Perché aveva bisogno di questo postulato? Perché con questo postulato dimostra tanti teoremi che lui aveva capito che erano veri ma non riusciva a dimostrarle con i primi quattro. Uno di questi, tanto per farvene vedere uno che conoscete bene, è che la somma degli angoli interni di qualunque triangolo è uguale a un angolo piatto. È 180 gradi, dite voi. Noi i gradi cerchiamo di ignorarli, diciamo è uguale a un angolo piatto. Come si dimostra? Piccolo ripasso. Beh, prendiamo un triangolo qualunque. Questi sono i suoi angoli. Questo è verde, questo è rosso e questo è un puntino blu. Bene, per questo punto che è esterno a questo lato, tracciamo l'unica parallela che si poteva tracciare in base al quinto postulato. E questo segmento qua, questo lato, lo prolunghiamo che si può fare in base al secondo postulato, perché io posso sempre prolungare un segmento. bene, a questo punto, siccome ho detto che questa è l'unica parallela, vorrà dire che questa coppia di angoli, questo più questo, se fate caso sono messi come questi due, sono uguali tra loro e che questo angolo rosso qui è esattamente uguale a quello, perché sono come questi due rossi qua. E allora, se questo è uguale al rosso e questo è uguale al verde, il puntino è qui già in comune, la somma di questi tre è un angolo piatto, sì, perché questo era il prolungamento, quindi questo è l'angolo piatto, allora anche la somma di questi tre è un angolo piatto. Però capite che questa qua, che è importantissima, è bello questo teorema, non era evidente che qualunque triangolo, per quanto sia sbilenco, per quanto sia, purché sia un triangolo con tre segmenti, allungato, schiacciato, equilato, risosce, scaleno, la somma degli angoli interni è sempre 180, è un bel risultato, se uno non lo dimostrasse non ci crederebbe, è possibile che non riesco a disegnarne uno che la somma degli angoli è diversa, no, Euclide lo dimostra e non si può. Se non avesse avuto il quinto postulato questo non si sarebbe dimostrato, però questo quinto postulato mannaggia dava fastidio e uno si potrebbe chiedere e se non ci fosse? Più che dire se non ci fosse e se io lo negassi, se io dicessi è falso, cosa vuol dire che è falso? Vuol dire che non ce n'è una sola di questa rete parallele, ma che non ce n'è nessuna per esempio, oppure che ce n'è più di una, ci sono due modi per negarlo, o non ce n'è nessuna o ce n'è più di una, no, la negazione di un'unicità, ed ecco che infatti chi parte dicendo, il quinto postulato lo nego, dicendo che ce n'è più di una, ottiene dei triangoli fatti così, in cui la somma è minore di 180 gradi e sono delle geometrie che si fanno in queste superfici scavate, diciamo così. Se uno invece dice, no, tutte le rette che passano per il punto esterno prima o poi le vanno a incontrare, schematicamente, è giusto per fissare le idee, non vuol dire niente questa figura, vi faccio una retta che vedete di sicuro la va a incontrare, tutte le vanno a incontrare, quindi non c'è nessuna parallela. Otterrei dei triangoli panciuti in questo tipo di geometria che si chiama ellittica, iperbolica perché è troppa grazia, un'iperbole quando c'è troppo. Iperbole non inteso come iperbole matematica, ma come figura retorica. Quando uno in italiano fa un'iperbole vuol dire che la spara grossa, invece quando uno fa un'ellisse vuol dire che puntini di sospensione, non c'è niente da dire, un'ellisse è uno spazio vuoto e quindi che non ci sono. La geometria ellittica è i triangoli panciuti, per esempio sulla superficie terrestre i triangoli sono di geometria ellittica, i navigatori satellitari che ormai tutti usate utilizzano la geometria dell'Euclidea ellittica perché se no sulla superficie terrestre farebbero degli errori, perché i triangoli sulla superficie che a noi sembrano piani in realtà sono tutti panciuti così. Ma allora a questo punto la geometria l'Euclidea è un punto di passaggio, vedete? Né così né così, ma è un caso particolare. Ma allora se io volessi dire un triangolo, qual è la somma degli angoli interni? Bisognerebbe rispondere secondo la geometria iperbolica è minore di un angolo piatto, secondo quell'Euclidea è uguale a un angolo piatto, secondo quell'ellittica è maggiore. Vedete questo triangolo qua addirittura a due angoli retti, guardate, è un arco di Equatore con due archi di Meridiani, è un triangolo con due angoli retti, se lo dite a un geometra euclideo vi dice voi siete matti, se ci sono due angoli retti il terzo non c'è e invece qui c'è anche il terzo e quindi ci hanno diverse geometrie. Quando viene fuori questa roba? Questa roba viene fuori quando alcuni studiosi provano a dimostrare il quinto postulato. Ci prova Girolamo Saccheri, qui siamo guardate proprio molto indietro, qui siamo in pieno settecento e lui cosa fa? Dice voglio dimostrare il quinto postulato per assurdo, supponiamo che il quinto postulato sia falso, allora accadrebbe questo, questo, questo e questo, ma vedete che cose strane che succedono e allora succedendo cose così strane ho dimostrato che è un'ipotesi assurda e quindi sarà vero. Ma lui non si era accordo che per ricavare queste cose strane aveva sviluppato delle geometrie non euclidee, lui anzi voleva usarlo per dimostrare che era giusta, però ha messo la pulce nell'orecchio. Poi arrivano altri studiosi, Gauss, Gauss è stato il principe dei matematici, grande matematico del settecento, tra settecento e ottocento e lui cosa fa? Lui capisce che può dimostrare teoremi non euclidei, ma non li pubblica. Gauss non pubblica niente, si ritira nel cassetto perché, sue parole, aveva paura delle strida dei beoti, di quelli che avrebbero riso, quelli che ridono per senza niente, che l'avrebbero preso in giro. Siccome io, Gauss, ho la mia dignità, non vado a farmi ridere della gente con le geometrie non euclidee, me le tengo nel cassetto, non mi voglio sputtanare, scusatemi il francesismo. E chi si va a sporcare le mani è Lobachevski, il quale però para il colpo chiamandole geometrie immaginarie. Chi lo critica dicendo che roba è questa? È immaginaria. Questa è geometria immaginaria. Mia invenzione, non è quella vera, è un frutto della fantasia. Poi arriva Riemann, eccetera, eccetera. Fino ad arrivare Poincaré che quando gli chiedono, ormai abbiamo diverse geometrie, quale possiamo scegliere? Lui risponde sì, abbiamo tante geometrie tra loro equivalenti e scegliamo la più conveniente, quella che ci fa più comodo, purché sia coerente, purché non arrivi a contraddizioni. Quindi vedete che dal Settecento attraverso l'Ottocento fino ad arrivare ai primi del Novecento, quello che era assurdo, vergognoso, Gauss, immaginario, Lobachevski, diventa normale. Ne prendiamo una, purché sia la più conveniente. Quindi vedete che è sempre lo stesso problema, le geometrie non le Euclidee, ma nel corso della storia tra Settecento e Novecento le si accettano. Cosa è cambiata? È cambiata l'atmosfera culturale. Vorrei pregarvi una cosa. Chi è lontano pensa che parlando non si sente, in realtà l'aula amplifica tutto, per cui vi pregherei o di star zitti, che non si sbaglia mai, però se siete stanchi, avete voglia di chiacchierare, di uscire. L'università, le porte sono aperte, quindi non c'è registro, non dovete chiedere posso. L'università si entra e si esce, purché l'unica regola è il silenzio, il resto si può fare tutto. Allora, quindi dicevo, vedete, è cambiata l'atmosfera culturale. Quello che prima era assolutamente assurdo, vergognoso, immaginario, è diventato una delle tante geometrie. Tant'è vero che i fisici nel Novecento le usano a man bassa. Tutta la relatività generale di Einstein usa geometrie non Euclidee, perché Einstein dice che la forza di gravità non è altro che una curvatura dello spazio. Ed essendo lo spazio curvo non possiamo più usare la geometria di Euclide, ma geometrie nuove, che sono appunto le geometrie non Euclidee, queste che si mettono negli avvallamenti, nei rigonfiamenti e così via. Tant'è vero che, vi riporto una frase di questo storico della scienza, Imre Thoth, dice l'emergere delle geometrie non Euclidee è stato il momento decisivo nel quale il soggetto delle matematiche ha preso coscienza della sua immanente libertà. Nell'ambito delle geometrie, da oltre duemila anni, il sapere puro e certo, uno dice certo come la matematica, certo come la geometria, ecco, modello di verità assoluta, accettare le nuove teorie secondo il modello non Euclideo significa ammettere l'esistenza di più verità, tutte ugualmente valide. La verità non è più una sola, ma esistono più verità. Allora, se voi sentite uno che vi arriva in aula e non sapete cosa sta insegnando, arriva un nuovo professore, non vi dice di che materia è, e vi dice io vi insegno che esistono più verità, tutte ugualmente valide. La verità non è più una sola, ma esistono più verità. Voi cosa pensate che insegni questo tipo? Secondo me mi viene in mente che ci stia facendo una lezione su Pirandello. Questo è esattamente quello che dice Pirandello. Questo è la letteratura dei primi del Novecento, di cui Pirandello è il più famoso rappresentante, Nobel per la letteratura, grande scrittore, drammaturgo. Tant'è vero che il matematico De Finetti, quando muore Pirandello, ecco, De Finetti non era un matematico qualunque, famoso in tutto il mondo, italiano. È il padre della teoria soggettiva della probabilità, notate, teoria soggettiva della probabilità. Ed era un grande appassionato di Pirandello, anzi lui stesso ha detto che per lui, per la sua teoria soggettiva della probabilità, che è la più moderna tra le teorie della probabilità, lui ha tratto ispirazione delle commedie di Pirandello. Più di una volta ha scritto che lui abitava a Roma vicino a un teatro, non mi ricordo quale fosse, e che spesso andava a vedere i drammi di Pirandello e da lì ha tratto molte ispirazioni per le sue opere matematiche, notate questo. Ecco, lui quando muore Pirandello scrive sul periodico quadrivio di letteratura, considero Pirandello come uno dei più grandi spiriti matematici. Così diceva un collega nel giorno della sua morte e tale l'affermazione mi parve accolta con meraviglia. E lui dice, è chiaro che si era meravigliato il mio collega perché lui aveva la nozione di matematica che aveva dei suoi studi. La matematica è fonte di certezza assoluta, niente a che fare con il relativismo pirandelliano. Ma adesso che abbiamo capito che si possono cambiare gli assiomi e cambia tutto il resto, e questo è Pirandello. Se uno cambia la mentalità o se due persone hanno diverse mentalità, è chiaro che hanno diverse visioni del mondo. E' questo che ci dice Pirandello. E De Finetti fa l'esempio della commedia Lazzaro. Perché la commedia Lazzaro? Beh, a parte che su Pirandello poteva prendere una a caso, forse ha fatto così, e andavano tutte bene. Beh, questo è il tema pirandelliano. Pensate ai sei personaggi in cerca di autore. Così è se vi pare. Dopo ne leggiamo un pezzo. Bene, vi racconto più o meno la storia di Lazzaro e perché si chiama così. Beh, Lazzaro parla di un protagonista, che è Diego, che è molto devoto. Lui deve impostare la sua vita in base a un assioma, che è quello che conta, e andare in paradiso. Quello che conta non è la vita terrena, ma è la vita dell'aldilà. Quindi tutto deve essere fatto in funzione di questo assioma. E' molto religioso. Per cui lui si priva di tutto, evita il lusso, il figlio in seminario, la figlia in convento. Si è sacrificato tutta la vita, ma pretendono anche dagli altri il sacrificio, quello no. Non ha bisogno di nulla la mia figliola, dice Diego, solo di raggiungere, quando Dio piacerà, ciò che in terra non ha potuto avere. Dire non basta, bisogna provare la povertà. E allora via tutto, via il lusso. Ma sta zitta tu, dice alla moglie, che vuoi parlare tu di vita e di morte. Ti sei dimenticata che la vita vera è di là, quando è finita la carne. Poi cosa succede? Succede che Diego viene investito e muore. Però, e quindi muore. Arriva un medico e dice c'è una nuova Q, c'è un nuovo sistema, un farmaco rivoluzionario, che se è somministrato, e nei casi più fortunati, se è somministrato entro poche ore, riesce a rimettere in moto il cuore. Si fa questa iniezione e Diego riprende vita. Questo è un problema, perché quando lui capisce questo, dice, ma io sono stato morto per alcune ore, avrei dovuto vedere, ve lo leggo da qua. La sua anima, questo è il servitore Cico che parla, la sua anima appena uscita dal corpo doveva comparire davanti alla giustizia divina e non è comparsa. Cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è giustizia divina, non c'è nulla di là. Addio chiesa, addio monsignore, addio fede. Diego cambia la sioma, diventa un'altra persona. Tant'è vero che la commedia finisce, posso far tutto, posso far tutto, che vuoi fare? Diventi una bestia, uccidi, neanche le bestie uccidono così. Non ho più ragione, non ho più ragione di nulla, posso far tutto. Non è più lui, lui, non è più lui, dice la cameriera. E quindi vedete che è cambiato una sioma, cambia. Questo è Pirandello. Uno nessuno centomila. Uno nessuno centomila, Vitangelo Moscarda, una mattina si guarda allo specchio e la moglie dice cosa fai? Gegè, lo chiama Gegè, cosa fai Gegè? Ti guardi il naso storto? Naso storto? Io non ho mai avuto il naso storto. Sì, 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 guarda, si vede benissimo. Ha il naso leggermente storto. E lui dice ma allora io non me lo sono mai visto questo naso storto. Mia moglie me lo vede. Quindi come io vedo me stesso è diverso da come mia moglie mi vede. Ma allora anche i miei amici forse, ciascuno mi vede a moto suo. E i miei operai, lui aveva un'azienda, i miei operai ciascuno avrà una visione di me. E chi sono io? Sono quello che mi vede mia moglie? Sono quello che vedono i miei operai? Sono come mi vedo io allo specchio? Sono uno, due, cento, centomila? O non sono nessuno? Uno, nessuno, centomila. Basta cambiare un piccolo assioma, naso storto, e cambia la visione del mondo. Ecco un altro scrittore da questo punto di vista non è Euclideo, è Saramago. Non so se qualcuno di voi ama questo scrittore, a me piace moltissimo. Saramago come fa i suoi romanzi? Anche lui Nobel per la letteratura, è scomparso da poco, portoghese. Lui comincia con un'ipotesi strana. Una, all'inizio, nel primo capitolo, e poi tutto il resto è perfettamente logico, coerente. Per esempio, nella, dunque da dove cominciamo, nella saggio sulla lucidità parte da questa assioma, parte da questo episodio. Ci sono le votazioni in Portogallo e tutti votano a scatabianca. Tutti. Stranissima questa cosa. Cosa succede? Ecco, lui fa l'ipotesi di quello che potrebbe, tutte le conseguenze di questo atto. Non si può fare un governo, ma non si può neanche andare a votare, perché se torniamo a votare l'esito sarà lo stesso. Siamo votato a scatabianca adesso, tra un mese, tra un anno, e in questo anno come facciamo a fare il governo? Cosa facciamo? Confermiamo il governo vecchio? No. Se tutti votano a scatabianca vuol dire che è un voto di protesta. E allora se mettiamo il governo vecchio è proprio quello che non va bene per rispettare la volontà degli elettori. E tutto il romanzo si sviluppa su quello che può succedere. La zattera di pietra, c'è un grosso terremoto e si spaccano i Pirenei, la penisola iberica si stacca dall'Europa e comincia come una zattera a galleggiare nell'oceano e andare verso l'America. A quel punto è ancora un paese dell'Europa o diventerà un paese americano? Ma le persone continuano a ragionare da europei, però geograficamente si capisce che si andrà ad attaccare al continente americano e quindi tutto quello che può succedere. Cecità? Tutti diventano ciechi tranne una persona, uno deve rimanere con la vista perché sennò chi racconta gli episodi. Comunque tutti tranne uno diventano ciechi. Emblematico è la storia dell'assedio di Lisbona, questo è stupendo e si dice che il Nobel l'abbia vinto soprattutto per questo romanzo. La storia dell'assedio di Lisbona funziona così. A me piace perché c'è un non, il non è una tipica particella logica che si usa molto in matematica, la negazione. Ecco c'è una storia del Portogallo che sta per essere stampata, il correttore di bozze sta correggendo per l'acconto della casa editrice questa storia del Portogallo. A un certo punto gli viene un momento così di follia e aggiunge un non. Nella frase che diceva i portoghesi stavano ponendo da sedio Lisbona che era in mano ai Mori, in mano agli Arabi, in quel momento sta passando l'esercito di una crociata diretto in Terra Santa, l'esercito della crociata si ferma, dà un aiuto agli assedianti e insieme riconquistano Lisbona e Lisbona torna in mano ai portoghesi. Lui mette un non, i crociati non si fermano e poi il resto lo lascia così. Il romanzo va in stampa, va nelle librerie, i primi lettori cominciano a accorgersi lì che c'è un non che non c'entra niente, lo segnalano alla casa editrice, chiamano lo scrittore, dice cosa è successo qua? Dice no no, questo non è il mio padre, il manoscritto è qua, non c'è il non, ma chi l'ha messo? Non può che averlo messo il correttore di bozze, è l'ultimo che l'ha avuto in mano e lo chiamano in casa editrice. A casa editrice gli dicono noi ti dobbiamo licenziare qui. Però c'è una nuova caporedattrice che dice beh ma hai vent'anni che lavora per la nostra casa editrice, è sempre stato bravissimo, è uno dei più bravi dei nostri impiegati, gli potremmo perdonare questo momento ma cosa è successo? Lui dice non lo so, un attimo di debolezza, di stanchezza, mi è scappata un attimo di follia e dice vabbè lo perdoniamo. E questa caporedattrice si innamora di lui per questo gesto di coraggio, dice questo è un uomo coraggioso, si è fatto una cosa così, si innamora di lui e gli chiede adesso tu però devi essere coerente con te stesso, tu devi riscrivere la storia del Portogallo con questo non, non gli hanno aiutati, non hanno riconquistato Lisbona, Lisbona è ribasti in mano agli arabi e tutto quello che sarebbe successo, una storia alternativa, oggi diremo un universo parallelo, una biforcazione temporale, questo fatto succede diversamente, non succede questo fatto, tutto quello che ne consegue. Sliding doors, non so se qualcuno l'ha visto, c'è un evento che cambia il corso della storia e si crea una storia alternativa, come la svastica sul sole di Philip Dick, non so se qualcuno l'ha letta, Philip Dick comincia il romanzo dicendo supponiamo che la Germania abbia vinto la seconda guerra mondiale, cosa sarebbe successo? E fa una storia parallela con la Germania vincitrice della seconda guerra mondiale. Ecco, quindi, geometrie, ora, chi capisce le geometrie non euclidee capisce anche questo tipo di romanzi qua, sono i romanzi del Novecento, ipotetici. Bene, passiamo ad altre parti della matematica. Un personaggio strano della matematica, ora, a questo punto cosa abbiamo capito? Che la matematica non ha necessariamente a che fare con delle cose concrete, noi la matematica ce la possiamo inventare. Noi possiamo anche inventare un numero il cui quadrato è meno uno. Ma, scusate, ci può essere un numero il cui quadrato è negativo? Il quadrato vuol dire moltiplicato per se stesso. Se è positivo più per più fa più, se è negativo meno per meno fa più. Negativo non può venire mai. Ma che ci impedisce di immaginarcelo? E infatti è l'unità immaginaria. L'unità immaginaria è quel numero il cui quadrato vale meno uno. Una follia. Certo, e infatti nel Cinquecento questa ipotesi la introduce Girolamo Cardano, ma le chiama quantità silvestri, come i folletti dei boschi. Leibniz, che poi Leibniz è un innovatore, è uno degli inventori del calcolo infinitesimale, chiama questi numeri complessi, questi numeri immaginari, anfibi tra l'essere e il non essere. In realtà i numeri complessi che sono fatti di una parte reale più una parte immaginaria, perché è moltiplicata per l'unità immaginaria, sono i numeri più utili che esistano. Se non ci fossero questi numeri, buona parte dell'ingegneria, dell'elettrotecnica, chi di voi fa il tecnico sa che senza i numeri complessi i circuiti non si studiano, buona parte della fisica, anzi la fisica quantistica non ne parliamo, nell'equazione di Schrödinger della fisica quantistica la I è dentro l'equazione, tutta la fisica quantistica è fatta con i numeri complessi, altro che quantità silvestri, quindi sono utilissimi, eppure si basano su un personaggio immaginario. E questo è immaginario come Renzo dei Promessi Sposi, mai esistito, però ci fa comodo. È talmente strana questa cosa che ha portato anche a sollecitare la fantasia degli scrittori. I turbamenti del giovane Torles di Musil, scrittore tedesco, libro romanzo del 1906, ha questo dialogo, ve lo leggo perché mi sembra simpatico. È il giovane Torles, che è un giovane liceale, vostra età, che parla con un suo amico, dopo la lezione di matematica. Dice, hai capito bene? Poco fa. Che cosa? La faccenda dei numeri immaginari. Certo, non è mica difficile, basta solo ricordarsi che l'unità di calcolo è la radice quadrata di meno uno, perché al quadrato fa meno uno. E qui sta il punto. Questa radice non esiste. Ogni numero, sia positivo che negativo, se elevato al quadrato, dà un valore positivo. Quindi non può esserci nessun numero reale che sia la radice quadrata di un numero negativo. Giustissimo. Ma perché non si dovrebbe tentare allo stesso? È naturale che non potrà risultare un valore reale. Proprio per questo si definisce risultato immaginario. E come se si dicesse, qui c'è sempre stato seduto uno, dunque mettiamo una sedia, anche oggi, se nel frattempo fosse morto. Facciamo finta che ci sia. Ma come si può, se si sa di sicuro, con certezza matematica, notate l'aggettivo, che è questo impossibile? Appunto, si finge lo stesso che sia così. Ne uscirà pure un risultato. Prova a pensarlo così. In un calcolo del genere, all'inizio hai dei numeri solidissimi, in grado di quantificare i metri, i pesi, quindi i numeri reali, quelli con cui si misura. E qualunque altro oggetto concreto. Comunque dei numeri reali. Poi, alla fine del calcolo, lo stesso. Ma l'inizio e la fine sono tenuti insieme da qualcosa nel mezzo che non c'è. È un po' come un ponte, che abbia soltanto i piloni iniziali, quelli finali, e tuttavia è sul quale si cambina sicuri come se fosse intero. Bainberg fece un ghigno. Parli quasi come se fossi il nostro prete. E qui viene fuori che la matematica diventa quasi un atto di fede. Eppure i numeri complessi funzionano. Altro tema, vi faccio una carrellata, non vado a fondo in queste cose, giusto per farvi vedere l'infinito. La matematica entra in crisi con l'infinito, i primi del novecento. Ci sono due tipi di infinito. L'infinito potenziale, qualcosa che cresce sempre di più e in ogni momento è finito, ma può crescere a piacere. Questo è l'infinito potenziale. Oppure c'è l'infinito attuale, un insieme di infiniti elementi pesi tutti in una volta. Ecco, l'infinito attuale, secondo Kant, è l'assoluto. È qualche cosa che non si può mai superare. L'infinito è qualcosa che non si può pensare niente di più grande. Kant, filosofo. Lo scrittore Borges è affascinato dall'infinito. Tant'è vero che dice c'è un concetto che è il corruttore e l'ammattitore degli altri. Non parlo del male, il cui limitato impero è l'etica. Parlo dell'infinito. Borges, infatti, in molti racconti ci porta dei paradossi dell'infinito. Uno dei paradossi che Borges racconta molto bene è quello di Achille e la tartaruga. Tutti lo conoscete, il paradosso di Zenone. Ecco, Borges per ora lo racconta veramente bene. Borges dice supponiamo che Achille vada dieci volte più veloce della tartaruga e alla tartaruga diamo dieci metri di vantaggio. Bene, partono. La tartaruga ha dieci metri di vantaggio. Achille, quindi, riesce a fare questi dieci metri e a raggiungerla. No, perché la tartaruga nel frattempo ha fatto un metro. Lei, sì, è più lenta, però va a un decimo. Quindi mentre lui copre i dieci metri di distanza lei ha fatto un metro. Benissimo, Achille con un salto fa il metro che manca e raggiunge la tartaruga. No, perché lei intanto ha fatto un decimetro. Ma allora Achille fa presto a fare quel decimetro. Ma lei intanto ha fatto un centimetro. E così via. Insomma, secondo Zenone, raccontato da Borges, Achille la tartaruga non la raggiunge mai. Ecco, questi paradossi avevano fatto dire ai matematici lasciamo perdere queste questioni. Con gli infiniti non si scherza. Galileo, che era un rivoluzionario, davanti all'infinito si arrende anche lui. Galileo scrive, prendiamo i numeri naturali, uno, due, tre, quattro, cinque, eccetera, eccetera. Prendiamo i loro quadrati, uno, quattro, nove, sedici, venticinque, eccetera, eccetera. A ogni n corrisponde il suo quadrato, a ogni quadrato corrisponde la sua radice. A venticinque corrisponde cinque. Quindi i numeri sono tanti e quanti i loro quadrati. Né più né meno. Sono in corrispondenza. Tanti quanti. Ma qui troppi ne mancano. Qui manca il due, il tre, il cinque, il sei, il sette, l'otto. E mancano un casino. E allora? Allora, quelli devono essere di più. Ma ho detto che sono tanti quanti. Cosa conclude Galileo? Lasciamo perdere. Lui dice, queste sono di quelle difficoltà che derivano dal discorrere che noi facciamo col nostro intelletto finito intorno all'infinito, dandogli quegli attributi che noi diamo alle cose finite e terminate. Il che, penso, non sia conveniente. E lui era un rivoluzionario, lui è il padre della rivoluzione scientifica. Eppure si arrende davanti all'infinito. Gauss, principe dei matematici, capirai, ha avuto paura delle geometrie delle euclidee, capirai se non ha paura. E infatti Gauss dice, protesto contro l'uso della grandezza infinita come qualcosa di compiuto. Ciò che non è mai ammissibile in matematica. E quindi Gauss, risoluto tedesco, lascia perdere l'infinito. Ecco, invece George Cantor comincia a lavorare sugli infiniti e dimostra delle cose stupefacenti. Prima di pubblicarle scrive al Papa. Prima di pubblicare il suo primo articolo sull'infinito manda una lettera al Papa in cui gli chiede il permesso di pubblicarlo. Ha paura di parlare dell'infinito. Dice, l'infinito è una questione teologica. Non vorrei invadere il campo della Chiesa. Aveva studiato storia. Nel 1600 Giordano Bruno, per aver parlato degli infiniti mondi, l'ha messo a rovo. Cantor si tutela. Il Papa gli dà il permesso e comincia a pubblicare delle bellissime cose sull'infinito. Lui dimostra che ci sono più tipi di infiniti. Dimostra che in un insieme infinito non è vero che il tutto è maggiore di una parte. Anzi, la caratteristica degli insiemi infiniti è proprio il fatto di avere una parte equivalente al tutto, che va a negare uno degli assiomi della geometria euclidea. Introduce un simbolo, Aleph, un altro personaggio immaginario della matematica, come la I, che rappresenta la numerosità dei numeri naturali e dimostra che i numeri reali sono di più. Dimostra che i razionali sono tanti quanti, i numeri naturali, mentre i reali sono di più. Non ve la voglio far lunga, però dimostra, negando Kant, che dato un qualunque Aleph, dato un qualunque insieme infinito, se ne può sempre costruire uno più grande. Prendendo l'insieme delle parti, non entro nei dettagli. Cos'è l'insieme delle parti? Se ho un insieme di tre oggetti, l'insieme vuoto, il primo da solo, il secondo da solo, il terzo da solo, la prima coppia, la seconda coppia, il primo col terzo, tutti tre insieme, sono tutti sotto insiemi che posso estrarre da quello. Quanti sono? Non ci avete fatto caso, ma erano esattamente otto che ne ho elencati, due alla terza. Ci siamo? Due elevato ai tre oggetti. Allora, dato un qualunque insieme, anche di cento oggetti, i sotto insiemi sono due alla cento. Dato un insieme infinito, dice Kantor, i sotto insiemi sono due all'Aleph, all'infinito, e dimostra che è un infinito più grande. Sembra una stupidaggine, però dice una cosa interessantissima. Dice che non c'è un infinito assoluto che supera tutti. Dato un qualunque infinito ne posso sempre costruire uno più grande. Nessuno può darsi le arie di dire io sono il più infinito di tutti, perché lui trova sempre un infinito più grande. Notate che ha fatto bene a scrivere al Papa, perché se ci pensate, questa è la negazione di un infinito assoluto. Se volete, questa è la negazione di Dio, perché lui dice non c'è un qualcuno che è più grande di tutti, perché si può sempre trovare qualcuno più grande di lui. Per fortuna che il Papa questo non l'ha mai letto. Altrimenti, reazioni agli insiemi infiniti di Cantor. Ecco, Gauss l'abbiamo già visto, protesto contro, quindi Gauss contrario. Il dramma di Cantor, Cantor è finito in manicomio, perché il suo maestro Kronecker lo sconfessa. Kronecker dice che Cantor è un ciarlatano, era il suo maestro, cioè Cantor era il suo allievo. Cantor è un ciarlatano scientifico che corrompe le giovanimenti. Non è molto dolce come giudizio. Siamo a metà ottocento quando lo dice. Poincaré, che pure prima era un innovatore per la geometria delle Euclidee, Poincaré nel 1908 dice che la teoria degli insiemi è una malattia patologica da curare. Non esiste alcun infinito attuale, dato nella sua totalità. I Cantoriani l'hanno dimenticato e sono caduti in contraddizione. Notate, primo, che siamo nel 1908, quindi lui però è un po' conservatore in questa. Notate che li chiama i Cantoriani, come se fossero una sette religiosa, e però li disprezza. Russell invece, che è un logico, 1910, siamo lì, la soluzione delle difficoltà che in passato circondavano l'infinito matematico è probabilmente la massima conquista che la nostra epoca ha da vantare. Notate che differenza, quindi c'è un bel dibattito. C'è chi dice peste corna, c'è chi dice è il massimo. Questa teoria di Cantor è la più bella teoria che la nostra epoca possa vantare. Hilbert, che è il più rappresentativo dei matematici dei primi del Novecento, nel 1926 arriva a scrivere questa frase, è rimasta famosa. Nessuno riuscirà mai a cacciarci dal paradiso che Cantor ha creato per noi. Ora ragazzi parliamo di matematica, questi parlano di paradisi. Vedete che la matematica non è così statica come può sembrare, non è una cosa che esiste sempre uguale una volta per tutti. Qui ci sono dei dibattiti, c'è gente che litiga per la matematica, gente che discute, gente che ha teorie vero, non è vero, mi piace, non mi piace, è un paradiso. Comunque ormai nel Novecento la piega che ha preso la matematica è questa. Si può inventare qualunque cosa, purché sia coerente, si può creare una teoria con i teoremi, con le dimostrazioni, con qualunque oggetto si possa. E questo lo scrive Hilbert. Hilbert è il più rappresentativo. Hilbert è quel matematico tedesco che aprì il congresso dei matematici del 1900. Ogni quattro anni i matematici fanno un congresso mondiale. Il 1900, il 1904, il 1908 e così via. Nel 1900 Hilbert apre il convegno dicendo ci piacerebbe sollevare un lembo del telo che sta coprendo il secolo che sta dinanzi a noi e guardare cosa ci riserve il secolo che sta iniziando ora. E vorremmo anche sapere quali problemi matematici verranno risolti durante il nuovo secolo. E propone un elenco di 23 problemi che secondo lui erano i problemi importanti da risolvere. E lui dice una cosa, dice la matematica adesso dalle geometrie delle euclidee da Cantor in poi, ha assunto una libertà enorme. Non è più algebra e geometria quella che voi studiate a scuola. La matematica sta dilagando, sta diventando potentissima, ha a che fare con tante cose. I sistemi della matematica sono ormai puramente formali. Gli oggetti, gli assiomi non devono avere legami con la realtà empirica. È come il gioco degli scacchi. Noi inventiamo i pezzi, inventiamo le mosse, è inventato un gioco, diamo le regole, qualunque cosa. Si deve poter dire ogni volta il luogo di punti, rette e piani, tavoli, sedie, boccali di birra. Io posso fare una teoria matematica dicendo che per due sedie passa un solo tavolo e sul tavolo ci possiamo allineare tanti bicchieri di birra quante vogliamo e possiamo fare una teoria matematica dell'osteria. Lui diceva la matematica non ha limiti, però bisogna avere due cose, stiamo attenti, che sia coerente, cioè che non si arrivi mai a dimostrare sia una cosa che il suo contrario, non ci siano antinomie e che sia completa, cioè che ogni verità all'interno di questa teoria sia possibile dimostrarla. Tutto quello che è vero sia almeno in principio dimostrabile. Quindi lui dice occorre essere sicuri di coerenza e completezza, però questo sarà facile dimostrarlo nel corso del nuovo secolo. Per esempio cominciamo a dimostrarlo proprio per l'aritmetica. Hilbert a Parigi dopo la lista dei 23 problemi pronuncia frasi di questo genere. Notate il tono, era tedesco. Ogni problema matematico ben definito deve necessariamente essere suscettibile di una soluzione esatta. Noi sentiamo interiormente un perpetuo richiamo, ecco il problema, cerca la soluzione, puoi trovarla con la pura ragione. Notate che era molto sicuro della potenza della matematica. Nel 28 il convegno dei matematici si svolge a Bologna. 28 è multiplo di 4. Non ci sono limiti alla comprensione matematica, dice nell'apertura del convegno di Bologna. In matematica non ci sono ignorabimus. Non diremo mai non lo so. Ogni problema ha una soluzione. Quindi notate la grande fede di Hilbert. Tant'è vero che Hilbert delinea un programma nel quale dice che si riuscirà a dimostrare la coerenza e la completezza di ogni parte della matematica. È talmente forte la spinta di Hilbert, positivista, grande fede nella scienza, che il francese Poincaré, tra francesi e tedeschi, un po' di sfottoccio è sempre stato, Poincaré da buon francese ironico, risponde così a Hilbert. Eh caro Hilbert, si potrebbe allora ideare una macchina nella quale si introducono da una parte gli assiomi per raccogliere teoremi all'estremità opposta, come in quella leggendaria macchina di Chicago, nella quale i maiali entravano vivi per uscire trasformati in prosciutti e salsicce. Lo prende un po' in giro insomma, lo sfotte un po'. E infatti perché lo sfotte un po'? Perché l'aria sta cambiando. Non è un caso che Gödel, questo signore qua, insieme ad Einstein, Einstein c'è sempre nel mezzo. Einstein è uno dei più fotografati del Novecento. Parlavamo questa mattina, c'era il convegno Urbinoir, i due più fotografati del Novecento sono stati Hemingway I e Einstein, le due icone della letteratura e della scienza del Novecento. Ecco, qui Gödel, che era Princeton insieme ad Einstein. Perché Gödel ungherese e Einstein tedesco fossero a Princeton lo potete immaginare. Siamo nel 1931. In Europa c'erano le leggi razziali, in Italia ancora no, ma ci manca poco. Comunque c'era un clima pesante. Sono entrambi di origine ebrea e quindi sono fuggiti negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti avevano i porti aperti, accoglievano i profughi che venivano dall'Europa e si sono arricchiti per questo. La scienza statunitense diventa grande in questo periodo. Bene, cosa dimostra Gödel? Dimostra il teorema di incompletezza. In ogni sistema formale, dotato di un insieme non contraddittorio di assiomi, come l'aritmetica, si possono costruire proposizioni che il sistema non riesce a decidere, non possono essere dimostrate e neanche confutate. Non si può dire se è vero o falso. Ogni sistema simile all'aritmetica può portare, anzi necessariamente porterà, a proposizioni che non sapremmo dire sono vere o false. Addirittura, dice, la coerenza dell'aritmetica non si può dimostrare nell'ambito dell'aritmetica. Cioè Gödel, dopo tre anni, dopo del 28 che vedevamo prima, dopo tre anni distrugge il programma di Hilbert. Però, giustamente, uno studioso, Gabriele Lolli, docente a Pisa, recentemente ha scritto che il programma di Hilbert, a parere di tanti, sarebbe naufragato a causa dei teoremi di Gödel. In realtà ha perso la sua significatività e plausibilità nel nuovo clima culturale insensibile alle venature positivistiche riscontrabili nel programma stesso. Cioè, dice, il programma di Hilbert tramonta perché non era più aria. Eravamo usciti dal positivismo e la gente non ci chiedeva più. La scienza stava prendendo un'altra strada. Ultima cosa che vi dico di matematica. Ultima nel senso per delineare questo post-modernismo della matematica. Il determinismo. Allora, uno degli usi della matematica nell'Ottocento è stato quello di utilizzare le equazioni differenziali per descrivere l'evoluzione di sistemi naturali. Pensate, senza usare chissà che cosa, pensate alla legge di caduta di un grave. O in una palla di cannone sparata. Uno conosce l'equazione della traiettoria, sapete che è una parabola, e quindi voi, prima che parta, potete prevedere dove andrà a cadere. Voi sapete che si possono prevedere le eclissi migliaia di anni prima. Noi oggi abbiamo delle tabelle che vi sanno dire quando sarà, non solo la prossima eclisse, ma vi sanno dire se nell'anno 3000 ci sarà un'eclissi di sole, con estrema precisione. Giorno, ora e luogo. Quindi la matematica riesce a prevedere. Però non sempre. Ora, prima vediamo la visione ottocentesca. Qui è Laplace che scrive un'introduzione a un libro di probabilità. Ma Laplace è il più grande studioso di meccanica celeste del suo tempo. Quindi conosce benissimo il fatto che i moti dei pianeti non hanno nessun segreto. Li sappiamo tracciare. Dice, lo stato attuale del sistema della natura consegue evidentemente da quello che era l'istante precedente. Causa-effetto. E se noi immaginassimo un'intelligenza che a un istante dato comprendesse tutte le relazioni tra l'identità di questo universo, cioè le equazioni che governano il moto, bene, essa potrebbe conoscere le rispettive posizioni, i moti e disposizioni generali di tutte quelle entità in qualunque istante del futuro. E quindi il matematico o il fisico può diventare un indovino perché può indovinare quello che accadrà nel futuro. Queste sono le equazioni che permettono di mandare in orbita un satellite artificiale perché noi sappiamo esattamente in che orbita si metterà. Queste sono le equazioni che permettono di mandare una navicella sulla Luna e sapere in che punto atterrerà perché le traiettorie sono perfettamente note. Primi del Novecento però, Poincaré, vedete i nomi che tornano sono sempre gli stessi, studiando il problema di tre corpi che interagiscono con la forza di gravità, trova delle soluzioni strane, delle soluzioni nelle quali basterebbe cambiare di un niente le condizioni iniziali e si avrebbero delle traiettorie completamente diverse. Vediamo come lo descrive. Se conoscessimo esattamente le leggi della natura e la situazione dell'universo all'istante iniziale, potremmo prevedere esattamente la situazione dello stesso universo in un istante successivo. È la stessa cosa che ha detto Laplace. Quindi lui dice Laplace ha ragione, per carità, il collega ha sempre ragione. E lui? Ma seppure accadesse che le leggi naturali non avessero alcun segreto per noi, anche in tal caso potremmo conoscere la situazione iniziale solo in maniera approssimativa. Non possiamo fare una misura infinitamente precisa o anche se la facessimo dobbiamo esprimela con un numero finito e quindi troncarla a un certo punto. Un piccolo errore c'è sempre. Bene, se questo ci permettesse di prevedere la situazione successiva con la stessa approssimazione non ci occorrerebbe altro. E noi diciamo se io faccio un errore del 2% nella misura e poi ottengo la traiettoria tutta col 2% di errore mi va benissimo, non mi aspetto di più. No, non è sempre così. Può accadere che piccole differenze nelle condizioni iniziali ne producono di grandissime nei fenomeni finali. Lui scrive questo i primi del Novecento. 1903. Non se lo fila nessuno. Nessuno si accorge di quello che scrive perché forse è troppo in anticipo rispetto ai tempi. Continuano a usare la matematica tranquillamente per fare previsioni e magari si meravigliano se qualche cosa non torna e lo mettono da parte. Le cose cambiano quando nel 1963 riscopre lo stesso fenomeno Edward Lawrence. Edward Lawrence è un meteorologo laureato in fisica ma che si occupa di meteorologia, previsioni del tempo, che si accorge che cambiando una cifra al sesto posto dopo la virgola un milionesimo di errore ottiene delle previsioni del tempo completamente diverse. E allora dice ma allora c'è qualcosa che non va nei calcoli? No, andavano bene. C'è qualcosa che non va nel computer? Siamo già con i computer. No, tutto funzionava. E si accorge che Poincaré l'aveva già detto. Lui va a studiare i libri precedenti in biblioteca di Poincaré e si accorge che ha trovato delle soluzioni del tipo di quelle di Poincaré. Questa è una simulazione di queste equazioni differenziali c'è una differenza di un milionesimo questo è 10, 10, 10 non lo so questi sono numeri presi a caso potrebbero essere temperatura, pressione, velocità del vento cose di questo genere qua anziché 10 mettiamo 9.9999 la sesta cifra dopo la virgola è cambiata vedete che all'inizio si assomigliano poi dopo sono completamente diverse qua alti, bassi alti, bassi e qua c'è una zona tutta alta la previsione è completamente diversa qui c'è un periodo di tempo sempre bello invece qua di sotto cosa è cambiato che qua all'inizio avevano preso una velocità del vento leggermente un milionesimo diversa cosa fa Lorenz? Per non farla a fine di Poincaré lo dice usando una metafora letteraria usa la metafora della farfalla in titola la relazione al convegno nel 72 non la chiama come il primo articolo deterministic non periodic flow flusso movimento deterministico non periodico no chiama la relazione può il battito di ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas e da quel momento l'effetto si chiama effetto farfalla e diventa molto popolare da dove prende Lorenz l'idea della farfalla la prende da un racconto di Bradbury del 52 Bradbury è lo stesso autore di Fahrenheit il libro di fantascienza in cui si bruciano i libri lui ha scritto anche un racconto che si intitola un suono di tuono un rumore di tuono è che è una storia buffa ve la racconto con due parole è una macchina del tempo lui immagina che ci sia un'agenzia che promuove viaggi nel passato in particolare promuove delle battute di caccia al dinosauro ma non dinosauri finti dinosauri veri perché manda i cacciatori nel passato però gli dice guardate dicono le istruzioni non dovete toccare niente perché se voi modificate qualcosa nel passato quel qualcosa che modificate nel passato si può ripercuotere ai giorni d'oggi e provocare cambiamenti pericolosi voi tutti sapete la storiella del nonno se voi andate nel passato e ammazzate vostro nonno poi voi scomparite perché se non c'è vostro nonno se vostro nonno muore a vent'anni non nasce vostra mamma e non nascite neanche voi quindi cambiare le cose nel passato è molto pericoloso dice lo stesso dinosauro che voi ucciderete è un dinosauro che sarebbe morto di lì a poco noi vedendo tutto il passato come nella moviola vediamo che quel dinosauro sarebbe morto di lì a poche ore noi vi facciamo andare poche ore prima lo ammazzate voi e non fate nessun danno ecologico bene loro vanno prima ecco la fantasia di Ray Bradbury prima di partire ci sono state le votazioni in America ora se io non mi ricordo i nomi prima di entrare nella cabina del viaggio del tempo uno dei cacciatori dice ma chi ha vinto le votazioni che facevano lo spoglio questa mattina e dice ha vinto Trump ah mannaggia e partono vanno nel passato ammazzano il dinosauro e ritornano uno di loro quando va a togliere gli stivali si accorge che negli stivali c'è un pezzo di fango con una farfalla morta e dice ma aver ucciso una farfalla non può essere così importante il suo volto era gelido la sua bocca tremò mentre chiedeva chi ha vinto le elezioni presidenziali ieri la Clinton gli dicono caspita ho cambiato il corso della storia cioè lui si rende conto che avendo ucciso una farfalla nel mesozoico 200 milioni di anni fa ha provocato un insieme di piccoli cambiamenti ecologici che hanno portato a un esito diverso delle votazioni ai giorni nostri da lì Lorenz ha coniato ecco questo cosa vi dice vi dice che anche la scienza ha bisogno di metafore letterarie per poter rendere l'idea di qualche di qualche cosa di astratto o tanto per non dar troppi meriti a Bradbury il nostro Carlo Emilio Gadda nel 1953 quindi più o meno lo stesso periodo aveva scritto nel racconto l'egoista se una libellula vola a Tokyo innesca una catena di reazioni che raggiungono me quindi il nostro Carlo Emilio Gadda che però era un ingegnere oltre ad essere uno scrittore aveva già coniato la stessa metafora bene mi volevo beh ormai come leggerimento vi faccio vedere questo questo è un tipico oggetto caotico è un pendolo doppio tutti sapete cos'è un pendolo ma se voi in questo pendolo mettete una cerniera a metà lui fa delle cose di questo genere è un esperimento facile ci vuole una fonte di energia però lui anziché oscillare con oscillazioni isocrone fa un casino di questo genere vi leggo come la mette Malvaldi questo è sensibile alle condizioni iniziali basta un niente per cambiare completamente il movimento tutti conoscete Malvaldi il barlume è l'autore di questi gialli che hanno trasmesso a Suscai un pendolo semplice dice Malvaldi è un oggetto il cui comportamento è molto facile da prevedere ma se in fondo al primo pendolo ne è attaccato un secondo se in fondo a un'asta che pende ne è incardinata una seconda e dopo aver sollevato il tutto lo lasciate cadere la semplicità di cui parlavamo prima scordatevela un pendolo doppio nonostante la sua apparente semplicità è quello che in fisica si definisce sistema caotico ovvero un sistema che se si cambiano anche in modo infinitesimale le condizioni le condizioni di partenza esibisce comportamenti completamente differenti tra loro vedete come un autore di gialli usa la metafora del caos e la spiega anche bene tra l'altro lui è un chimico però basta alzare uno dei due perni un filino di più o di meno e la traiettoria che tracerà il nostro pendolo potrebbe non assomigliare minimamente a quelle precedenti da un punto di vista fisico un giocatore di golf è un pendolo doppio una prima asta le braccia fino al gomito su cui è incernierata una seconda asta le braccia dal gomito al polso le mani e la mazza un sistema quindi che per minime variazioni delle condizioni iniziali esibisce comportamenti assolutamente caotici questa breve digressione di fisica classica oltre a far vedere che l'autore è una persona di una certa qualcultura ci aiuta a comprendere per quale motivo mentre si incamminava verso il clubhouse Giacomo Mancini fosse incazzato nero Giacomo Mancini al quale hanno rubato il computer con dentro l'ultimo romanzo di cui non aveva copia su nessuna chiavetta e quindi era già di umore nero gli andavano male anche i tidi a golf e quindi lui racconta questo usando la metafora spiega anche perché usando la metafora del pendolo doppio allora a questo punto nell'ultima mezz'ora vi faccio vedere che la cosa più scontata ma adesso la vediamo sotto un'altra luce anche la letteratura ha avuto un'evoluzione simile a quella della matematica ora adesso sia per rilassarci un po' sia per aprire il nuovo argomento riassumiamo un attimo quello che abbiamo visto siamo passati da una matematica dell'ottocento rigida positivista tutto si può dimostrare dati gli assiomi che si ottengono si ottengono misurando empiricamente deduciamo i teoremi che si possono dedurre fino ad arrivare a una matematica via via più incerta più relativistica gli assiomi si potrebbero cambiare se cambiamo gli assiomi cambiano tutti i teoremi non è che ci sono dei teoremi più veri di altri tutti possono essere ugualmente veri tant'è vero che li usano nelle diverse rami della fisica possiamo inventare dei numeri che non esistono i numeri immaginari possiamo avere a che fare con tante gerarchie di infiniti e non trovare mai un infinito più grande insomma la matematica può essere caotica eccetera eccetera la matematica acquisisce una maggiore incertezza addirittura si dimostra matematicamente Gadel che nessun ramo della matematica è capace di dimostrare tutto rimarrà sempre qualche cosa di indecidibile o se Cantor ci ha allontanato da Dio Gadel ci riavvicina perché nel momento in cui Gadel dice nessuna teoria matematica ma quindi allora anche nessuna teoria fisica ingegneristica eccetera che si basa sulla matematica può avere la pretesa di dimostrare tutto rimarrà sempre qualche cosa di non dimostrato per uno che è religioso questo può essere una finestra aperta quindi la matematica sconfina con la teologia bene in letteratura le cose vanno nello stesso modo allora io adesso non è che vi parlo di tutta la letteratura perché sennò siamo qui fino vi parlo di un settore particolare e particolarmente vicino alla matematica che è la letteratura d'indagine i gialli insomma il noir la letteratura poliziesca ma più che poliziesca diciamo di indagine perché non è detto che chi fa l'indagine sia un poliziotto molte volte anzi i casi più simpatici sono quelli in cui non è un poliziotto a fare le indagini ecco per esempio questo genere nasce proprio con un non poliziotto Dupin il genere il genere noir il genere letteratura di indagine nasce nel 1841 con i racconti di Edgar Allan Poe i delitti della Rue Morgue l'incipit del primo romanzo di indagine dice questo le facoltà Edgar Allan Poe inizia un nuovo genere l'investigazione fino a questo momento una letteratura che parlasse di investigazioni non c'era anche perché non c'erano vere e proprie indagini non c'era ancora la polizia che faceva indagini sugli omicidi o cose simili quando cominciano queste indagini nella realtà comincia anche il genere letterario della letteratura di indagine a metà 800 guardate come comincia però Edgar Allan Poe le facoltà mentali che definiamo analitiche sono poco suscettibili di analisi di esse sappiamo tra l'altro che per chi le possiede in misura straordinaria sono sempre fonte del più vivo godimento come l'uomo forte gode della propria prestanza fisica dilettandosi di quegli esercizi che impegnano i suoi muscoli così l'analista si compiace di quell'attività mentale che risolve notate che sembra che stia descrivendo un matematico se il matematico non è contento della forma fisica ma della forma mentale vuol risolvere problemi trae piacere dalle occupazioni più banali purché impegni i suoi talenti è appassionato di enigmi di rebus di geroglifici facendo mostra nel risolverli di un'acutezza mentale particolare arriva a dire che la capacità di risolvere è probabilmente potenziata dallo studio della matematica e lui con questa introduzione prettamente matematica dice sarebbe bello applicare il metodo matematico anche ai casi della vita per esempio per risolvere un caso poliziesco che cos'è un caso poliziesco è un sistema inizialmente ordinato un ordine iniziale che viene perturbato da un'azione criminale un omicidio un furto un qualche cosa che perturba l'ordine allora arriva l'investigatore che è questo super uomo che prende in esame le prove che diventano i suoi assiomi in base a queste prove fa dei ragionamenti delle deduzioni e ricava dei teoremi che sono le dimostrazioni di colpevolezza e ci ridà tranquillità questo genere diventa così popolare perché non è un genere che ci crea ansia apprensione come potrebbe sembrare perché parla di crimini no ci dà tranquillità perché questi crimini vengono risolti questo ci dice che usando il ragionamento noi siamo in grado di isolare i criminali e di assicurare la giustizia fare in modo che non nuociano e quindi dà tranquillità quindi in questo caso 2 più 2 fa 4 viene fuori che la matematica è un metodo di ragionamento che dà tranquillità perché risolvendo dei problemi ci fa stare sereni e infatti subito propone un problema che Dupin il suo investigatore risolve con l'uso della logica non vi leggo queste cose vi dico solo come descrive il suo ragionamento vi spiegherò come sono arrivato alla soluzione gli anelli principali di questa catena di pensieri sono i seguenti e così via gli anelli principali di una deduzione fa tutto il ragionamento se questo allora quello ma quindi quest'altro eccetera eccetera e arriva alla classica conclusione allora sono stato sicuro che pensavate e lui indovina quello a cui stava pensando stessa cosa per il più famoso degli investigatori Sherlock Holmes Conan Doyle introduce Sherlock Holmes con un dialogo probabilmente molti di voi hanno letto i romanzi di Conan Doyle in cui introduce Sherlock Holmes Sherlock Holmes è un investigatore non è della polizia ma spesso va in aiuto la polizia e c'è un narratore c'è una spalla uno che gli fa da spalla che è il dottor Watson la spalla è necessaria perché il narratore anche in Dupin c'è un narratore non è in prima persona c'è qualcuno che racconta il narratore è uno come noi uno che non capisce le cose al volo infatti Watson ci arriva sempre dopo di Sherlock Holmes è Sherlock Holmes che trova le soluzioni bene quando si incontrano la prima volta nella camera in cui alloggia Sherlock Holmes Sherlock Holmes è in una camera e dà un affitto a camera in affitto e arriva Watson a prendere affitto dalla stessa padrona di casa si incontrano si presentano e Sherlock Holmes lo guarda e gli dice lei è un medico che viene dall'Afghanistan e Watson dice sì è vero chi gliel'ha detto nessuno l'ho dedotto dice Sherlock Holmes e come ha fatto a dedurlo beh è facile il filo io l'ho dedotto in un attimo ma in realtà ho fatto tutto un ragionamento il filo del ragionamento è stato questo ecco un signore che ha il tipo del medico ma ha l'aria di un militare quindi è un medico militare è appena arrivato dai tropici perché è abbronzato e quello non è il colore naturale della sua pelle e poi i polsi sono chiari e quindi la faccia abbronzata e i polsi sono chiari e vuol dire che è arrivato da un posto e aveva la divisa aveva qualche cosa con le maniche lunghe ha attraversato un periodo distente di malattia come rivela chiaramente il suo viso teso e stanco ha una ferita a braccio sinistro perché lo tiene in modo rigido e innaturale bene in quale zona dei tropici un medico militare inglese può avere passato tante traversie e riportato una ferita al braccio ovviamente in Afghanistan è un po' sporco come ragionamento però vi dice che è il tipico ragionamento matematico come lo spiega lei sembra molto semplice risposi sorridendo questo è Watson che narra mi ricorda il Dupin di Edgar Allan Poe non immaginavo che personaggi del genere esistessero fuori dai racconti notate che siamo in un racconto ecco perché vi riporto questa frase perché la letteratura poliziesca tipicamente si cita e come la letteratura scientifica spesso chi scrive un libro di letteratura poliziesca cita i predecessori cita altri autori o altri personaggi qui Sherlock Holmes viene paragonato a Dupin e quindi si rende omaggio alla si rende omaggio al creatore del genere non so se leggete per esempio mi viene in mente il nome della rosa il nome della rosa inizia con un omaggio a Sherlock Holmes tant'è vero che il protagonista Guglielmo da Baskerville si chiama come il romanzo Il mastino di Baskerville di 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 Conan Doyle e il narratore del nome della rosa si chiama Azzo che assomiglia a Watson Azzo Watson più o meno e il nome della rosa inizia con un episodio che è tratto adesso non vi dico perché poi è tratto da un giallo molto simile insomma c'è questo continuo anche Camilleri spesso cita altri va beh questo è un tratto quindi la letteratura dell'ottocento ottocento crea questo genere di romanzo estremamente positivista estremamente fiducioso nella scienza tanto che auspica l'applicazione dei metodi della scienza la fisica la chimica la matematica per risolvere casi umani casi di crimini non vi leggo queste cose ma sono le parti sottolineate seguire qui ci sono tutte frasi prese da romanzi di Conan Doyle seguire il filo sbagliato ora passo un altro filo ho in mano tutti i fili della vicenda notate il filo del ragionamento la deduzione la catena di deduzioni qui l'investigatore scopre sempre tutto l'investigatore è perfetto usa conosce Sherlock Holmes conosce la fisica la chimica conosce tutti i casi precedenti è una non usa armi non non ha bisogno di andarsi a mescolare con la gente in genere i casi li risolve stando a casa sua con la pipa con il bicchierino di liquore un po' di cocaina lui era un cocainomane scritto sui romanzi niente scandali a volte si annoiava e quindi questa è la fede nella deduzione tant'è vero che ci sono due capitoli di Conan Doyle nei romanzi su Sherlock Holmes che si intitolano la scienza della deduzione Edgar Allan Poe nello scarabio d'oro inserisce questa frase ve la leggo e ditemi se non mi viene in mente qualcosa dubito che l'ingegno umano possa costruire un enigma che l'ingegno umano applicandoci a fondo non sappia risolvere è Hilbert questo Hilbert lo dice nel 1900 mentre qui siamo intorno al 1850 al congresso dei matematici ogni problema che noi siamo in grado di formulare potrà essere risolto Edgar Allan Poe lo aveva detto dentro i suoi gialli 50 anni prima Van Dyne addirittura ha scritto 20 regole per scrivere un giallo perfetto le regole a cui si deve attenere un autore di gialli la regola numero 14 dice questo i metodi del delinquente e sistemi di indagine devono essere razionali e scientifici questo è l'ottocento della letteratura poliziesca andiamo avanti questa vi riassumo la golden age l'età d'oro del giallo c'è un crimine che perturba l'ordine c'è un'indagine si trova il colpevole la soluzione ristabilisce l'ordine atteggiamento positivista fede nella scienza la vita è come la matematica si trova sempre la soluzione bene andiamo avanti cominciano i primi dubbi già Edgar Allan Po aveva scritto in fondo al suo secondo racconto poliziesco Edgar Allan Po è stato ve lo consiglio è stato uno degli scrittori più lungimiranti ha avuto dei lampi di genio lui ha scritto già dei gialli postmoderni a metà ottocento un secolo e mezzo prima finisce il secondo racconto in questo modo vi leggo la frase finale e ditemi se non vi fa venire in mente qualcosa per quanto riguarda l'ultima parte della supposizione lui ha già risolto il caso però gli viene questo dubbio per quanto riguarda l'ultima parte della supposizione si dovrà considerare che la più insignificante differenza nei fatti delle due vicende potrebbe dar luogo ai più importanti errori di calcolo notate errori di calcolo li chiama non d'indagine facendo divergere radicalmente le due sequenze dei fatti proprio come in aritmetica un errore che in sé non ha valore alla fine moltiplicandosi da un punto all'altro del procedimento produce un risultato lontanissimo dal vero è Poincaré un piccolissimo errore effetto farfalla può produrre un risultato basta che uno mi inquini una prova e mi frega infatti la critica di Chesterton a Conan Doyle cioè la critica di Lupin a Sherlock Holmes c'è un bellissimo racconto non mi ricordo eccolo qua che si intitola notate si intitola no non è qua è più avanti scusate non mi ricordo forse l'ho già passato eccolo qua Maurice Leblanc autore di Lupin Lupin è un ladro gentiluomo però si mette c'è un racconto che si intitola Arsenio Lupin contro Sherlock Holmes piccolo gioco di parole è chiaro che però è Sherlock Holmes il suo avversario quando imparerete che la verità non si può scoprire partendo da tracce materiali o indiziarie esse sono inutili ma esse non sono inutili ma addirittura pericolose quello che dice Lupin a Sherlock Holmes è la seguente cosa se io vado a fare un furto con le scarpe da donna tu il giorno dopo cominci a cercare una donna come colpevole perché gli indizi sono pericolosi si sbaglia quello che conta è parlare con la gente e l'indagine psicologica e questo vi introduce a Maigret Simenot dice nei suoi romanzi fa dire al suo Maigret io non deduco mai io non deduco mai il mio metodo è stato proprio quello di non averne che cosa fa lui? lui si immedesima nelle persone lui guarda le persone negli occhi parla con le persone diventa il loro doppio cerca di ragionare come loro frequenta i loro ambienti entra in empatia in empatia con le persone si dice che mentre gli investigatori dell'ottocento razionali usano i neuroni Maigret usa i neuroni specchio per usare una lingua cioè quelli dell'empatia si mette in sintonia lui non guarda le impronte le impronte si possono falsificare non guarda gli indizi materiali non guarda le tracce di sangue non gli importa niente non c'era non c'era il DNA ancora perché sono tutte cose che lui ha paura che siano falsificabili lui vuole capire il movente perché una persona ha interesse a uccidere questa persona ha una psicologia tale da poter uccidere ecco che siamo ai primi del novecento nel soggettivismo qui siamo entrati nel modernismo la letteratura diventa soggettiva non sono le prove gli indizi materiali come nella fisica come nella scienza nella chimica ma sono gli indizi psicologici la psicanalisi che conta entrare nella mente dei soggetti quello non vi frega mai e poi c'è la complessità e il profeta della complessità è il già nominato Carlo Emilio Gadda Gadda scrive un giallo che rimane nella storia della letteratura di indagine che è quel pasticciaccio brutto di via Merulana è un giallo tosto complicato c'è un omicidio con furto di gioielli a Roma in via Merulana tutti potete andare se volete è una via che esiste lui scrive questo giallo in romanesco simpaticissimo e introduce l'investigatore che è il dottore in gravallo prima avete visto che Dupin lo introduce facendo vedere che ragiona come un matematico Sherlock Holmes capisce subito che Watson è arrivato dall'Afghanistan il dottore in gravallo dice Gadda sosteneva tra l'altro che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l'effetto che dir si voglia di un unico motivo di una causa singolare ma sono come un vortice un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti diceva anche nodo groviglio garbuglio gnomero che alla romana vuol dire gomitolo la realtà è tutta ingarbugliata come un gomitolo una matassa come un vortice l'opinione che bisognasse riformare in noi il senso della categoria di causa quale avevamo dai filosofi di Aristotele Emanuele Kant e sostituire alla causa le cause era in lui un'opinione centrale persistente una fissazione quasi cioè gli diceva che le cause sono tante come finisce questo giallo ve lo posso anticipare non finisce rimane irrisolto lui si ingarbuglia talmente tanto che non si risolve e come ce lo spiega Gadda ecco ce lo spiega così questa non fa parte del pasticciaccio brutto questo è un testo che si chiama Meditazione Milanese in cui Gadda spiega il suo modo di ragionare è buffissimo sentite il linguaggio l'ipotiposi della catena delle cause avete visto prima le catene di deduzioni il filo il filo è unidimensionale lui dice l'ipotiposi della catena delle cause va emendata e guarita semmai con quella di una maglia o rete troppo facile la catena come minimo una maglia ogni anello o grumo o groviglio di relazioni è legato da infiniti filamenti a grumi o grovigli infiniti come gli gnocchi unti agglutinati filamentosi per formaggio e per salse uno cento netraina ognuno dei cento poi mille ognuno dei mille milioni altro che le ciliegie delle quali sogliono gli esperti affermare che una tiri l'altra nella catena una causa tira l'altra ma la realtà è come gli gnocchi ne tiri su uno e ne vengono su milioni perché sono tutti appiccicati dal formaggio e dalle salse questa è un'immagine della complessità del mondo però qui siamo a metà novecento notate che la letteratura questo era abbastanza scontato sta seguendo però una strada simile a quella della matematica e in questo genere letterario la cosa è notevole perché vi dicevo che l'investigatore si comporta come uno scienziato ma allora qui non si comporta più come uno scienziato certo è ancora uno scienziato ma la scienza è cambiata diciamola così che l'investigatore dell'ottocento si comporta come gli scienziati dell'ottocento fiducia nella scienza positivismo l'investigatore del novecento si comporta come lo scienziato del novecento relativismo indeterminazione indecidibilità ci sono anche dei gialli dopo ve ne faccio vedere qualcuno in cui si usa il teorema di Gödel non si risolve ma si sa c'è il teorema di Gödel ci sono dei gialli quantistici non ce la facciamo a trovare le prove perché c'è il principio di indeterminazione magari non lo chiamano così però traspare questo tipo di ragionamento vi faccio un paio di esempi poi dopo siamo quasi alla chiusura però giusto per arrivare a dire queste cose Sciascia Sciascia è il principe dei gialli del novecento sono tipici intanto Sciascia segue da Pirandello c'è questo bellissimo filone siciliano Pirandello Sciascia Camilleri è un filone stupendo Pirandello fonda il relativismo nella letteratura Sciascia lo fa proprio i gialli di Sciascia sono eccezionali perché mescolano la realtà politica con quella criminale e usa investigatori non convenzionali spesso non sono poliziotti è un professore magari che si mette a fare indagini un albergatore e sono talmente complessi che le soluzioni magari si trovano ma poi non si possono mettere in pratica c'è il superiore che blocca l'investigatore perché gli dice sei arrivato troppo avanti ti mando via come succede al povero Montalbano avete visto spesso viene richiamato perché sta scoperchiando degli altarini che non deve scoperchiare cose simili ecco Sciascia rovescia il giallo perché lo rovescia perché nel giallo c'è un ordine che ci dà tranquillità il criminale perturba quest'ordine ci crea un disordine che ci inquieta un omicidio un furto una violenza arriva l'investigatore scopre tutto assicura il criminale alla giustizia e noi torniamo sereni in Sciascia c'è una malavita organizzata c'è un ordine ma è malavitoso tutto funziona bene secondo le regole della malavita quando arriva l'investigatore a investigare le cose brutte che sta facendo la malavita è lui l'elemento di perturbazione e alla fine sarà lui lo sconfitto spesso da Sciascia viene sconfitto l'investigatore perché con le sue indagini nello scoprire la verità e nel voler assicurare i malavitosi alla giustizia sta perturbando un ordine non funziona più l'economia non funziona più la politica perché l'economia e la politica funzionavano sull'ordine malavitoso e quindi c'è un rovesciamento perturba chi fa le indagini il criminale faceva funzionare tutto ed ecco questo è quello che viene fuori con Sciascia in Sciascia questo ve lo voglio proprio leggere gli investigatori sono così ora pensate a Dupin Sherlock Holmes tutto sommato in gravallo in gravallo è un buon diavolo però si rende conto che il mondo è complesso ma lui è un buon diavolo in Sciascia a volte gli investigatori vengono scelti tra i più incapaci in modo che non possono nuocere il magistrato questa è bellissima una storia semplice c'è anche il film molto bello nel film il professore è Gian Maria Volontè in molti gialli di Sciascia da molti gialli si trae un film con regista Petri e protagonista Gian Maria Volontè questo è uno di questi film il magistrato di fronte all'anziano professore esordisce dicendo professore si ricorda di me? certo che mi ricordo posso permettermi di fare una domanda poi le ne farò altre di altra natura perché questo è un interrogatorio il professore viene interrogato come testimone poi le ne farò altre di altra natura ma nei componimenti di italiano lei mi assegnava sempre un tre perché copiavo ma una volta mi ha dato un cinque perché? perché aveva copiato da uno più intelligente il magistrato scoppiò a ridere ah l'italiano ero piuttosto debole in italiano ma come vede non è stato poi un gran guaio sono qui procuratore della repubblica l'italiano dice il professore non è questione di italiano è il ragionare con meno italiano lei sarebbe forse ancora più in alto la battuta era feroce il magistrato impallitì notate che ci fa notare che lui è magistrato perché non ha la logica per ragionare non è l'italiano è il ragionare che le manca lui era il suo professore si ricorda bene forse con meno italiano quindi con meno ragionare lei sarebbe anche più in alto e questo è quello che fa le indagini in Sciascia quindi notate notate come stanno cambiando le cose anche nella letteratura poliziesca adesso qui vi ricordo alcuni autori Scerbanenko il padre del noir italiano Andrea Camilleri la forma dell'acqua l'acqua non ha forma piglia la forma che le viene data gli investigatori per caso romanzi polizieschi che non finiscono soluzioni che arrivano per caso il nome della rosa per esempio arrivo qua Duremat Duremat autore svizzero scrive un giallo che si intitola La promessa bellissimo ve lo consiglio il sottotitolo è molto esplicativo Requiem per il romanzo giallo qui la vicenda è molto surreale qui c'è un un omicidio di una bambina nel bosco vestita di rosso che sta andando dalla nonna incontra un qualcuno che non deve incontrare e la bambina viene uccisa si aprono le indagini le indagini vanno per le lunghe si confondono non si arrivano a soluzione l'investigatore impazzisce questo però è la pagina 1 è il primo capitolo non vi dico altro su questo giallo perché poi dopo c'è una seconda indagine dove il vecchio investigatore ormai è vecchio ubriaco c'è un giovane che le riprende in mano e poi si sviluppa il giallo però mi interessa leggervi il dialogo tra l'ex comandante di polizia e uno scrittore ecco questo ex comandante di polizia questo che è uscito sconfitto dalla prima indagine dice voi scrittori costruite le vostre trame con logica tutto accade come in una partita a scacchi qui il delinquente l'ha la vittima qui il complice l'ha il profittatore basta che il detective conosca le regole e i giochi della partita ed ecco ha ciuffato il criminale questo è il giallo classico la golden age ma i fattori di disturbo che si intruffolano nel gioco sono così frequenti che troppo spesso sono unicamente la fortuna professionale e il caso a decidere a nostro favore lui dice le indagini che arrivano a buon fine sono quelle in cui giocano la fortuna e il caso è cambiato il giallo la fortuna e il caso la complessità nei vostri romanzi invece il caso non ha alcuna parte da sempre voi scrittori la verità la date in pasto alle regole drammatiche mandate al diavolo una buona volta queste regole un fatto non può tornare come torna un conto chiaro? un fatto non può tornare come torna un conto non è vero che la realtà è fatta come i conti della matematica tradizionale ora uno qua può pensare ma ci stiamo allontanando dalla matematica no ci stiamo avvicinando alla matematica del novecento è chiaro che uno scrittore così siamo nel cinquantotto ha in mente il teorema di Gödel ha in mente il principio di indeterminazione e quindi dice neanche la matematica crede più nei conti che tornano l'effetto farfalla tant'è vero che c'è una frase questo è un altro libro sempre di Diuremat il giudice del suo boia che dice questo non farà mai il male per raggiungere qualcosa lo farà così senza senso cioè qui sta sta cercando un movente e dice no il movente non ce l'ha non farà mai del male lo farà così senza senso anche senza senza movente perché in lui sono possibili due cose è possibile il bene ed è possibile il male e decide a caso siamo lontanissimi dalla matematica no Diuremat conclude disse il vecchio sembra matematica è matematica rispose lo scrittore vi rileggo la fase prima in lui sono possibili due cose il bene e il male è il caso che decide risposta sembra matematica è matematica è chiaro che è perché la matematica del novecento ha la teoria della probabilità ha l'estrazione a caso ha la statistica al test delle ipotesi e quindi c'è tutto un avvicinamento allora io concludo ormai siamo arrivati alle cinque in quarto non voglio abusare del tempo anche perché due ore sono toste ecco vorrei concludere dicendo questo intanto quando qualcosa è nell'aria è nell'aria per tutti è nell'aria per i matematici è nell'aria per gli scrittori per i filosofi per gli sociologi eccetera tutti coloro che studiano qualche cosa studiano immersi nel tempo in cui vivono e anche il matematico e neanche il matematico fa eccezione l'abbiamo visto seconda cosa che voglio farvi notare siccome la matematica ma ci metto anche la fisica descrivono cose sempre più astratte sempre più frutto della creazione ecco perché ci metto anche la fisica la fisica voi direte come fa ad essere astratta la fisica caspita la fisica del novecento chi ne ha mai visto un elettrone voi usate l'elettronica voi avete lo smartphone nelle tasche voi avete un sacco di aggeggi tutto elettronico anche dentro la vostra automobile l'elettronica vuol dire che si muovono gli elettroni ma gli elettroni non li ha mai visti nessuno non esiste il microscopio che vede gli elettroni voi con un microscopio potete arrivare a vedere le molecole se è un buon microscopio potete arrivare a vedere tutto al più un atomo ma dall'atomo dell'elettrone l'elettrone è un niente rispetto all'atomo l'elettrone è una funzione d'onda tra l'altro una funzione d'onda che descrive onde di probabilità l'elettrone lo si conosce probabilisticamente non solo la traiettoria non è che non la troviamo perché non siamo capaci ma è impossibile per il principio di determinazione quindi noi la fisica sta ragionando con cose che non sono più visualizzabili non sono più neanche misurabili si conoscono solo matematicamente e con che matematica con quella matematica della I immaginaria la relatività descrive la cosmologia i buchi neri le onde gravitazionali con le geometrie non euclidee le curvature dello spazio-tempo che si propagano attraverso le onde gravitazionali le increspature dello spazio-tempo sono descritte con la geometria non euclidea quindi sono concetti che noi se vogliamo descrivere dobbiamo usare la narrazione non possiamo dire guarda nell'ottocento chi studiava i circuiti elettrici chi studiava il moto dei pendoli o dei pesi nel piano inclinato le carrucole diceva guarda l'esperimento fai le misure adesso no si dice le cose vanno come se l'entanglement quantistico va come se le particelle e antiparticelle fossero legate da una funzione d'onda duale ma che roba è questa e bisogna usare la letteratura quindi da una parte la letteratura ha bisogno dei concetti matematici per ampliare la fantasia degli scrittori e per capire metodi di indagine perché la letteratura è un metodo di indagine contemporaneamente la matematica la fisica le scienze sempre più astratte hanno bisogno della letteratura per descrivere quello che stanno facendo solo con delle narrazioni si descrivono non possiamo più dire guarda dobbiamo dire no è come se quindi dobbiamo essere bravi a narrarle le cose ci vuole una narrazione e per narrare bisogna leggere non è che si impara la narrazione leggendo il dizionario si impara leggendo un romanzo quindi ecco questo vi dicevo vi volevo mostrarvi che si stanno avvicinando nella seconda parte del novecento quando le scienze sono sempre più astratte e la letteratura attinge dalle scienze perché la scienza è sempre più presente nel mondo si stanno secondo me riavvicinando matematica e letteratura sono sempre più intrecciate è difficile leggere un romanzo senza avere una preparazione scientifica è difficile parlare di scienza senza essere capace a narrare e per narrare bisogna saper leggere bisogna essere bravi come Lawrence che usa la farfalla di Bradbury per descrivere un fenomeno matematico chiudo qua questo era l'intreccio